Questo è un bel giardino. La tua casa ha bei pavimenti. Desidero un buono chalet. Quei profumi non sono buoni. Ho letto questi giornali e quelli. Ho mangiato un buon dolce. Ho visto dei belli uomini. Quei fiori non mi piacciono. Lina è una buona amica. Questi sono bei paesaggi. Oggi parlo con quegli studenti. Ti porto un bel regalo. Sabrina è una bella donna. Questa macchina è bella. Questo è un buon lavoro. Nel film ci sono buoni attori. Non vado mai da quelle parti. Ci piacciono quei gatti. Vogliamo una bella cena. Il tuo è un buon gelato. Questi sono bei giorni. Tu ti chiami Stefano. Quanti anni ha tuo figlio? Loro sono i miei amici. Mi piacciono gli spaghetti. Mio figlio va a scuola. Lui regala i suoi giochi. Voi venite a casa stasera. Noi abbiamo 15 anni. Noi facciamo i compiti per domani. Loro vogliono studiare qui. Io mangio una pizza. Non voglio andare al cinema. Qui a destra c'è il bagno. Come stanno i tuoi figli? Di che colore è l'auto? Possiamo giocare a calcio? Certo che potete andarci. Vanno alla scuola media? Perché non fate i compiti? Preferisco giocare a carte. Lei si chiama Claudia. Grande e piccolo. L'elefante è grande. L'elefante è grande. Il topo è piccolo. Il topo è piccolo. Scuro e chiaro. La notte è scura. La notte è scura. Il giorno è chiaro. Il giorno è chiaro. Vecchio e giovane. Il nonno è vecchio. Il nonno è vecchio. Il nipote è giovane. Il nipote è giovane. Bello e brutto. La farfalla è bella. La farfalla è bella. Il ragno è brutto. Il ragno è brutto. Grasso e magro. Quel gatto è grasso. Quel gatto è grasso. Mio nipote è magro. Mio nipote è magro. Caro e economico. L'auto è caro. L'auto è cara. Il libro è economico. Il libro è economico. Scegliere. Lo scelgono. Che loro scelgano. Loro hanno scelto. Venire. Lei viene. Che lei venga. Lei è venuta. Venire. Lui viene. Che lui venga. Lui è venuto. Dire. Loro dicono. Loro dicono. Che loro dicano. Loro hanno detto. Non fare niente. Voi non fate niente. Che voi non facciate niente. Voi non avete fatto niente. Scrivere l'email. Tu scrivi l'email. Che tu scriva l'email. Tu hai scritto l'email. Quanti anni hai? Ho 28 anni. Sono un ventottenne. Ho undici anni. Sono un undicenne. Ho novant'anni. Sono un novantenne. Ho sedici anni. Sono un sedicenne. Ho ventisei anni. Sono un ventiseienne. Ho trentun'anni. Sono un trentunenne. Che giorno è oggi? Oggi è il dodici. Ne abbiamo dodici. Oggi è il primo. Ne abbiamo uno. Oggi è il due. Ne abbiamo due. Oggi è il ventotto. Ne abbiamo ventotto. Oggi è il dieci. Ne abbiamo dieci. Oggi è l'undici. Ne abbiamo undici. Che ora è? Che ore sono? Le nove meno venti. Venti alle nove. Le dodici. Mezzogiorno. L'una e mezza. Le tredici e trenta. Le ventiquattro. Mezzanotte. Le nove e un quarto. Le nove e quindici. Le sette. Le sette in punto. Le nove e un quarto. 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 i tuoi, i suoi, i nostri, i vostri, i loro, la mia, la tua, la sua, la nostra, la vostra, la loro, le mie, le tue, le sue, le nostre, le vostre, le loro. Giovanni mi chiama ogni sera. Giovanni mi ha dato la sua penna. La sua amica ti ha telefonato. Lui vuole che io ti chiami stasera. La chiamo domani. Le do il mio compito domani. Mia sorella gli telefona spesso. Io lo conosco molto bene. Ho visto Maria e le ho detto tutto. Forse la chiamo stasera. Quando ci venite a trovare? Ci dovete telefonare presto. Vi devo dire qualcosa. Non vi ho dato niente ieri. Non li conosco molto bene. No, non gli scrivo mai. Non le conosco molto bene. No, non gli scrivo mai. Ogni mattina, alle 8.55, esce con la giacca a doppio petto tutta abbottonata, il cappello calcato in testa. Cammina dritto e senza distrazioni fino al portone dell'ufficio, dove entra alle 9 in punto. Attraversa l'anticamera, passa davanti ai tre sportelli per il pubblico, spinge la porta a vetri con una mano, togliendosi con l'altra il cappello. Saluta i colleghi e va a prendere posto al suo tavolo. Appena seduto, apre un registro, poi si accende la prima sigaretta e incomincia a lavorare, lento e preciso. La lavatrice. È la macchina che serve per lavare la biancheria. Il quaderno. È un insieme di fogli rilegati. Lo sgabello. Serve per sedersi. Il portone. È la porta principale di un edificio. La segreteria. È l'ufficio nel quale puoi iscriverti ai corsi. Il bar. È il locale pubblico dove si va a prendere il caffè. La matita. Serve per scrivere. Lo specchio. Riflette la tua immagine. La lavagna. È usata dal professore durante la lezione. L'oculista. È il medico che cura i disturbi della vista. Il cane è nella sua cuccia. La macchina. È nuova. Il quadro. È molto bello. La finestra. È chiusa. Il giornale. È sul tavolo. Il limone. È giallo. L'aula. È luminosa. La mela. È marcia. Lo zio di Anna. È svizzero. La matita. È sul banco. L'autobus. È arancione. Lo zaino. È pesante. Il cassetto. È aperto. La poltrona. È comoda. Il computer. È acceso. Il gatto. È sulla sedia.